Una cosa così non si era mai verificata fino ad agosto in tutto una decina di esemplari di gabbiani morti dall'inizio dell'anno. Era nella norma ma da agosto in poi la situazione è precipitata e ora bisognerà capire che cosa li sta uccidendo. Sono le considerazioni di un operatore del CRAS che solo nella giornata di oggi tra Fano e Pesero ha raccolto una quindicina di povere bestiole morte probabilmente per le stesse cause che hanno provocato i decessi delle settimane scorse. Questo pomeriggio il CRAS è venuto a Fano, la Marina dei Cesari, dove sono state raccolte sette carcasse e tre invece sono stati prelevati in condizioni gravi. Non si era mai verificata una situazione così nemmeno da noi in tutti questi anni, ci dice al telefono Maura Garofoli, la detta stampa. Siamo molto dispiaciuti ed addolorati. Vedere queste povere bestie così accasciate e sofferenti e non poter far nulla stringe il cuore. Gli operatori poi hanno portato gli esemplari vivi e quelli deceduti al dottor Fama di Fesero, referente dell'organizzazione, il quale ci conferma l'eccezionalità di questa moria di esemplari che va ben oltre la fisiologicità del fenomeno in questa stagione. Qui siamo ben al di sopra delle casistiche. Diverse sono le ipotesi al vaglio anche se quella di una intossicazione rimane la regina di tutte, escludendo l'indigestione di materiale plastico che darebbe sintomi di soffocamento casomai e non sintomi neurologici invece tipici delle intossicazioni o di avvelenamenti. Ora nei prossimi giorni, fatte le dovute valutazioni è probabile che si proceda con specifici accertamenti per valutare la presenza sui resti dei gabbiani di riscontri tossicologici o di altro che possano dare una risposta su che cosa sta uccidendo i gabbiani della nostra costa.